e bentornati finalmente in questo nuovissimo episodio di Keeping Up With Iaia Rondi io sono la vostra host Ilaria Rondinelli e bentornati in questo nuovo episodio la settimana scorsa e se mi seguite sui social, Instagram, TikTok ho avuto una settimana abbastanza particolare perché ovviamente per chi non mi segue sui social e mi segue solo qui su YouTube o Spotify o comunque dove mi state ascoltando barra vedendo ho scoperto di essere incinta, sono incinta è stato uno shock in questo episodio vi racconterò un po' come sono andate le cose cosa abbiamo fatto fino ad adesso quindi poi potete fare il paragone se c'è differenza tra l'Italia e gli Stati Uniti allora, allora, sì quindi l'episodio si chiamerà sono incinta, yeah, che bello, che bello, che bello non vedevo l'ora di condividere questa notizia con voi l'ho tenuta nascosta per un po' ma sapevo che prima o poi l'avreste notato a parte che le persone l'hanno già notato cioè ci sono delle persone che mi seguono sui social che l'hanno notato prima che lo scopressi io cioè mi scrivevano Ilaria, ma, e calcolate che ero incinta penso da due giorni Ilaria, ma hai una luce diversa ti vedo diversa ma sei, ci stai nascondendo qualcosa? io non lo so voi come fate? io non lo so che magia avete mia madre mi ha detto che dipende molto se una persona è abituata a vederti tutti i giorni mi ha detto, probabilmente queste persone ti seguono ti vedono tutti i giorni e magari riescono a vedere i cambiamenti magari cambiamenti che una persona non vede che magari non mi vede da una vita e magari persone che mi seguono tutti i giorni dicono Ilaria c'è qualcosa di diverso e siccome sapevo che tanto non ve lo potevo nascondere anche perché diciamo che io sono abbastanza ciciotella sono bella grustatella l'unica cosa che non ho mai avuto è stata la pancia tutta la mia vita quindi avevo questo gonfiore perenne anche perché le prime settimane è più che altro tanto gonfiore che non tiene il ciclo che gli ormoni e quindi c'è un po' quel gonfiore non è che io tutti i giorni potevo scrivere ah mi stanno venendo le mestruziane ma ci sta di una capolata e poi comunque le persone mi seguono io condivido le mie giornate vado in palestra cioè si vede il mio fisico quando mostro le giornate quindi era impossibile tenervelo nascosto e poi comunque cioè per me ormai è da tanto che io crea contenuti sui social e per me le persone che mi seguono sono diventate una seconda famiglia cioè io ci sono tante persone che mi seguono veramente tutti i giorni assiduamente e quindi le sento diciamo anche se sono virtuali le sento vicine e quindi diciamo che mi ha fatto anche molto piacere condividere con voi questa notizia ma iniziamo cominciamo dal principio cominciamo dal principio quindi sono stata impegnata la settimana scorsa perché abbiamo scoperto il sesso del bambino barra bambina noi lo chiameremo bimbo insomma in generale non sto dicendo che è maschio e nemmeno che è femmina lo chiameremo bimbo punto perché non è posto di ogni volta bimbo barra bimba quindi abituatevi bimbo siamo stati impegnati perché abbiamo scoperto il sesso del bimbo e quindi immaginatevi cioè io ansiosissima l'abbiamo fatto lunedì quindi poi io non ho avuto il tempo di registrare martedì ho fatto 3000 giri di chiamate perché comunque poi abbiamo scoperto che il bambino stava bene e quindi chiama non lo sapeva nessuno non lo sapeva nessuno della mia famiglia diciamo solo mia madre mio padre mio fratello e la famiglia di Dylan quindi chiama zia chiama cugina perché poi se quella ci rimane male che gli hai detto a quella ma quella non gli hai detto e poi ci rimangono male che lo vedono sui social perché l'hai messo sui social e non me l'hai detto prima siccome io ho miliardi io ho tutta famiglia del sud sparsi tra Calabria e Sicilia capite bene che ho 50 cugine 50 zie 50 zie è così è così e quindi diciamo che è stato uno shock è stato uno shock scoprire di essere incinta perché vi avevo fatto un episodio mi sembra due episodi fa vi avevo spiegato che fine agosto intorno agosto ho avuto una gravidanza molare completa una mola completa praticamente è quando gli spermatozoi vanno a fecondare un ovulo cioè due spermatozoi vanno a fecondare l'ovulo quindi non è presente si dice gene femminile vabbè insomma dalla mia parte quindi purtroppo non cresce nulla non c'è non c'è un feto non c'è nulla anzi se non si se non si monitora monitorare monitorare monitora si dice monitora scusate ogni tanto sapete le parole in italiano vabbè e se non lo monitorate purtroppo può portare anche a un tumore maligno solitamente nella maggior parte diciamo nel 60% dei casi se state guardando il video scusate mi si è slacciata la camiciotta e anzi ve lo dirò da subito probabilmente questo sarà l'ultima volta che vi pubblicherò anche gli audio di questi episodi degli episodi probabilmente saranno disponibili dal prossimo episodio solo su youtube perché il programma che utilizzo per pubblicare gli audio quindi pubblicarveli su apple podcast su spotify purtroppo non so perché è un programma che insomma un sito che mi avevano dato le ragazze della mia agenzia che in italia è gratuito ma negli stati uniti non lo è quindi siccome io sono based in the us praticamente mi stanno cominciando a levare 50 dollari al mese e mi sembra abbastanza too much anche perché non è che io guadagno tramite il podcast che tu dici vabbè quei costi tu li riesci a prendere magari ti guadagni qualcosina al mese no quindi penso che smetterò di pubblicare gli audio e quindi troverete semplicemente il formato audio su youtube ma poi insomma dalla prossima volta vediamo come finisce con questo programma e vi terrò aggiornati ve lo farò sapere comunque tornando a noi vi dicevo quindi purtroppo è una gravidanza in cui non c'è non c'è nulla non c'è un feto non c'è nulla e se non lo monitorate e se non state attenti può portare ad un tumore maligno ci sono purtroppo delle donne che anche dopo l'operazione solitamente fanno il raschiamento hanno dovuto fare la chemio perché purtroppo sono rimaste delle cellule e insomma avevano contratto un tumore quindi diciamo che vabbè comunque se siete interessati e l'avevo spiegato nel mi sembra due episodi fa e quindi diciamo per me è stato un trauma perché eh quella era mia primissima volta rimanevo incinta e non cioè non 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 sapevo come gestire la cosa perché comunque ci sono rimasta malissimo io non l'avevo ancora detto sui social perché ovviamente si aspetta un po' però l'avevo detto a tutta la mia famiglia quindi è stato abbastanza automatico anche dover dire alla mia famiglia sai è successo questo questo e questo ed è anche per questo che stavolta non l'avevamo detto ora l'avevamo detto semplicemente ai nostri genitori perché è sempre un po' brutto dover perché poi magari le persone ti chiedono giustamente non sanno e tu sei costretto a spiegare sai è successo questo questo e questo e non è bello soprattutto quando magari in quel periodo stai soffrendo e quindi diciamo che è stato non me l'aspettavo di rimanere incinta così velocemente perché questo è successo ad agosto poi io ho fatto tutte le analisi perché nel momento dopo l'operazione siete monitorati e ogni settimana ogni settimana ogni due volte a settimana purtroppo dovete fare le analisi del sangue per vedere se i livelli di beta scendono nel vostro sangue se i livelli di beta non scendono c'è qualcosa che non va e probabilmente insomma sono rimasti dei residui diciamo che bisogna essere monitorati tutte le settimane fino a quando le beta non scendono a zero i dottori ci dissero se le beta ti scendono velocemente devi aspettare solo sei mesi se non scendono velocemente devi aspettare un anno e quindi diciamo che le mie beta sono scese molto velocemente io praticamente in meno di un mese ero a zero e quindi il dottore mi ha detto dovete aspettare sei mesi quindi ovviamente noi abbiamo aspettato i sei mesi diciamo abbastanza io un incubo perché comunque avevo paura sempre sai Dylan dobbiamo usare le precauzioni mi raccomando non posso rimanere incinta di qua di là quindi diciamo che adesso io non so se sono io che sono molto fertile o è mio marito e mia madre mi ha detto ma te sei sposata uno stallone ma chi te sei sposata non lo so non so se so io è lui probabilmente siamo entrambi non lo so diciamo che comunque siamo in perfetta salute entrambi diciamo che nessuno dei due certo sono rimasta incinta la prima volta poi le fate che non è andata perché è stata quella gravidanza però l'avevamo già capito da subito che dovevamo stare attenti perché diciamo siamo compatibili perché poi nella vita purtroppo succede anche che magari due persone non sono compatibili quindi magari non riescono ad avere dei figli insomma noi abbiamo capito da subito guarda ho detto senti secondo me siamo molto compatibili o sei te o sei io che sono molto fertile o sei tu che sei stallone però siamo attenti fatto sta che una volta che io non ero nemmeno fertile perché mi stavano pervenire le mestruzioni una volta non siamo stati attenti sono rimasta incinta e fatto sta che poi io ho un ciclo molto regolare regolare sempre 28 giorni se a me il ciclo passa cioè di un giorno non mi arriva c'è qualcosa che non va o sono incinta o c'è veramente qualcosa che non va perché io sempre regolarissima sempre stata così quindi insomma il ciclo mi ritarda un giorno faccio il test il test positivo ne faccio un altro positivo ne faccio un altro ho fatti tre diciamo che è stata molto traumatica è stata traumatica la cosa perché quando io ho fatto i test solitamente il test di gravidanza ci mette un minimo per le lineette escono di solito ci mettono 5 4 5 minuti non lo so dipende e anche quello che esce con scritto incinta più 3 più 2 un attimo ci mettono tutti i tre i test che ho fatto sono stati immediati immediatamente lineette super super scure quindi capite bene che io dopo il trauma che ho avuto della gravidanza molare quello purtroppo è un segno che le beta sono molto alte la mia testa è subito andata ecco alla c'ho di nuovo la gravidanza molare perché ovviamente quando le donne affrontano queste determinate situazioni che siano degli aborti che siano delle gravidanze particolari e purtroppo i bambini non ce la fanno il feto non ce la fa per qualsiasi svariati motivi purtroppo se ne parla molto molto poco ma gli aborti gli aborti spontanei questi tipi di gravidanza tantissime donne purtroppo li devono affrontare e se ne parla poco perché ripeto avevo fatto questo video se siete interessati guardatelo tantissime donne è un dolore insopportabile e non riescono a parlarne quindi diciamo sono cose che si tengono per sé ma è molto più comune di quello che pensiamo ed è abbastanza spaventosa come cosa perché tu dici come cavolo è possibile che succeda così spesso purtroppo succede e noi ovviamente sui social vediamo sempre le gravidanze perfette il bambino sanissimo ma non sappiamo cosa c'è dietro alla persona non conosciamo la sua storia non sappiamo se magari prima ha avuto delle problematiche non lo possiamo sapere quindi ci sono donne che non condividono quella parte dolorosa della loro vita e ci sono donne come me che sono un pochino più forti e riescono a farlo anche sia per aiutare me stessa ma per aiutare altre donne quindi diciamo che io nel momento in cui ho scoperto di essere incinta è stato un trauma perché io ero sicurissima che avessi di nuovo la gravidanza molare fatto sta che non ho nemmeno fatto una cosa carina per dirlo a mio marito perché ho cominciato ad urlare il suo nome lui non sapeva io stessi facendo il test ho cominciato ad urlare il suo nome gli ho detto corri vieni subito qua e mi ha trovato e lacrime con questi test in mano e mi ha detto ma che cavolo è successo cioè dice ma perché che è successo e io appunto gli ho fatto vedere poi abbiamo fatto un test insieme perché lui mi diceva ma magari ti stai facendo condizionare io ho detto te lo giuro che non ci mette nemmeno un secondo ad uscire positivo abbiamo fatto un altro test insieme ed effettivamente è uscito subito positivo e anche mio marito un attimo si è allarmato ha detto ok forse è un po' troppo veloce come cosa quindi immaginatevi cioè io è stato veramente un trauma perché ho subito collegato ecco di nuovo la credenza molare perché purtroppo sono traumi che rimangono ti rimangono dentro e quindi capito in quel momento è l'unica cosa a cui stai pensando cioè non stai pensando come la prima volta che ho fatto il test quando ho scoperto di essere incinta ad agosto io ero strafelice cioè meravigliosa ho visto questo questo positivo ero strafelice e stavolta invece avevo paurissima avevo proprio paura 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 e per fortuna abbiamo subito chiamato la mia OBG la mia ginecologa che loro mi avevano già seguita durante quella gravidanza e ho detto guardate è successo questo questo e questo ho avuto una gravidanza molare sei mesi fa ho scoperto di essere incinta ma non sono per niente tranquilla anche perché sapete benissimo che quando sei incinta essere ansiosa se stare in ansia paura non fa bene al feto proprio zero ho detto io sono incinta ho bisogno che voi mi aiutate ho bisogno che mi fate mi fate sentire che è tutto ok capito che va tutto bene e che posso tranquillizzarmi loro sono stati carinissimi mi hanno detto capiamo la situazione capiamo quanto può essere stressante e mi hanno subito dopo due ore mi hanno subito fatto andare in in l'ufficio e mi hanno subito preso le analisi del sangue e per tutta quella settimana mi hanno monitorato le beta perché loro ovviamente tramite il livello delle beta riuscivano a capire se le beta stavano crescendo nel modo giusto e le beta stavano crescendo perfettamente e quindi mi hanno monitorato tutta la settimana e mi hanno detto guarda noi ti abbiamo monitorato tutta la settimana le beta stanno andando bene l'unica cosa che possiamo fare per farti sentire meglio è farti una un'ecografia prima delle otto settimane non so in Italia perché ripeto io non sono mai stata incinta in Italia vi dico che qui negli Stati Uniti probabilmente uguale all'Italia non lo so ti fanno la prima ecografia dalle otto alle dodici settimane quindi puoi cominciare dalle otto fino insomma alle dodici e quindi ho detto boh ho detto ok mi fanno ti possiamo fare l'ecografia sei settimane così ti calmi un po' così insomma vediamo come va il bimbo si dovrebbe cominciare a vedere vediamo come va arriva il giorno delle io ovviamente allora noi donne e soprattutto quando rimaniamo incinte ce lo sentiamo non lo so è un istinto femminile lo sai come quando sai sotto sotto sai se è maschio o femmina cioè io la cosa la cosa più strana di tutte è che ripeto io ve l'ho detto il mio ciclo è sempre molto 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 regolare quando è successo che io e Dylan ci siamo fatti prendere alla mano chiamiamola così quando insomma abbiamo fatto quel errore quella l'unica volta che non siamo stati attenti io avevo una sensazione strana fatto sa che ho fatto un test sei giorni prima mi venisse il ciclo e il test era negativo quindi ho detto dai è negativo devo stare tranquilla cioè non è possibile che io veramente una singola volta non siamo stati attenti io già sono incinta e invece eccoci qua eccoci qua vabbè quindi noi diciamo che ce le sentiamo le cose e io me lo sentivo che stavolta era diverso me lo sentivo che stavolta c'era qualcosa di diverso me lo sentivo che c'era qualcosa dentro di me però ovviamente non non stai tranquilla e non hai la certezza fino a quando le cose non le vedi con i tuoi occhi mi fa ridere la cosa perché adesso rido ma quelle settimane prima dell'ecografia l'ho vissuta male poi comunque ci sono tante cose che le donne non raccontano soprattutto dopo che hanno avuto un aborto e il fatto di ogni volta di andare a fare la pipì e di controllare che nella carta igienica non ci sia sangue insomma non te la vivi come dovresti viver te la ed è poi è triste come cosa perché è uno dei momenti più belli della tua vita e non la vivi bene e non è colpa di nessuno purtroppo è colpa che la prima volta non è andata bene e quindi ti è rimasto un trauma quindi diciamo non l'ho vissuta bene le settimane anche perché ripeto io l'ho scoperto subito di essere incinta non l'ho vissuta bene l'attesa volevo volevo sapere se era tutto ok volevo sapere se c'era finalmente qualcuno dentro di me arriva finalmente il giorno dell'ecografia mi accompagna mio marito io io ero ero una paura vivente cioè avevo una paura che mi dicessero guarda non c'è niente oppure io non vedessi nulla come l'ultima volta insomma è stato è stato traumatico però siamo arrivati in ufficio e lei insomma è la ragazza dell'ecografia mi fa siccome sei sei settimane facciamo quella vaginale perché ancora insomma è presto sei piccolino e sarà piccolino quindi insomma facciamo quella vaginale ed è stata una gioia immensa nel momento in cui lei è entrata e abbiamo visto questo mini bimbino e minuscolo con questa testona enorme e e quindi niente è stato un momento di di gioia immensa io a piangere Dylan a piangere mi sono girata ho detto ho detto e io continuavo a dire alla alla ragazza continuavo a dire c'è un bambino c'è un bambino perché ovviamente non ero cioè per me è stato proprio mio dio finalmente vedo qualcosa e e mi sono girata e ho detto ma stai piangendo ho detto mio marito mio marito no e ci siamo comunque è stata un'emozione bellissima e è stato bello sapere che comunque lei ha detto il battito va bene tutto quanto quindi poi dopodiché abbiamo avuto la la visita post ecografia e ci hanno dato tutte le informazioni eccetera eccetera ed è stata è stata un'emozione grandissima che veramente io lo auguro a tutte le donne che mi stanno venendo i brividi solo a pensarci lo auguro a tutte le donne che hanno sofferto un aborto hanno sofferto la perdita di un bambino e voglio ripetervi quello che mi dicevano anche a me che io sì in quel momento dici sì dai arriverà però nel stesso momento non ci speri non ci credi quando vi dicono che l'arco beleno arriverà anche per noi è vero bisogna semplicemente sapere aspettare so che è difficile so che è è un dramma è è non so come cioè è difficile è è pesante è una situazione che non riesci a gestire ci pensi sempre dici ma sono tutte cazzate quella mi dice che devo solo aspettare devo sapere aspettare e tu sei lì e dici sì certo facile dirlo che farlo però credetemi che è così bisogna bisogna crederci io io avevo la paura che fosse una seconda gravidanza molare invece è andato tutto bene bisogna bisogna saperci credere bisogna pensare positivo perché se no non la viviamo bene cioè non la vivete bene anche voi stesse quindi diciamo che possiamo dirlo che l'arcobaleno prima o poi arriva per tutti e finalmente è arrivato anche per noi poi mi sono persa nel discorso scusatemi allora sì quella è stata la nostra prima visita alle sei settimane poi abbiamo fatto una seconda visita alle otto settimane otto settimane e mezzo alle otto settimane e mezzo abbiamo fatto un'altra ecografia il bimbo stra cresciuto non abbiamo sentito il cuoricino non ce l'hanno fatto sentire nella sesta né all'ottava e mezzo penso ce lo faranno sentire adesso che mi sto avvicinando alla dodicesima settimana e qui funziona così non so se in italia funziona così aspettate che volevo volevo prendervi un articolo che poi vi volevo leggere allora vi stavo dicendo non so in italia come funziona ma qui il cuoricino non ve lo fanno sentire fino penso alla dodicesima o più là però mi hanno detto tante donne che io insomma ne sto parlando sui social della gravidanza e tutto che l'hanno sentito subito quindi dipende secondo me da ginecologo a ginecologo non lo so quindi facciamo la visita delle otto settimane il bimbo sta bene tutto bene tutto a posto e ci propongono questo test che si chiama appunto NAPT che sarebbe prenatale test prenatale non invasivo che poi praticamente lo fanno ovviamente anche in italia ma penso che da noi qui negli Stati Uniti lo facciano prima perché io l'ho fatto ho fatto l'ecografia 8 si calcolate che ho fatto l'ecografia la settimana prima e il mercoledì ho fatto le analisi del sangue quindi 5 giorni dopo ho fatto le analisi del sangue l'NAPT è semplicemente il test per il feto in cui riescono a vedere se ci sono delle anormalità genetiche quindi stiamo parlando del DNA e quindi vanno a vedere se ci sono adesso ve lo leggo come appunto dice qua cromosoma sindrome di Down trisomia 18 trisomia 13 e appunto e scoprono se ci sono più copie di cromosoma X o cromosoma Y quindi se è maschio o femmina e dice l'NAPT può includere uno screening per dei problemi di cromosoma aggiuntivi ma adesso non so vabbè it's beginning to be used to test for genetic disorders insomma ti dà uno screening completo del bambino se sta bene se è tutto ok qualsiasi tipo di problema genetico e poi ti danno anche il sesso loro ti chiedono sei interessato a sapere il sesso perché il sesso ti dicono che è il 99,9% accurato e ovviamente non abbiamo detto sì perché eravamo stra curiosi di sapere se fosse maschietto o femminuccia e quindi il mercoledì mattina abbiamo fatto questa analisi del sangue e sono stati stra veloci perché io ho fatto mercoledì mattina la domenica mattina mi è arrivata la mail loro mi dicono guarda ti arriveranno due mail ti arriva la mail dal laboratorio e la mail da noi non aprire la prima mail perché quella ti arriverà subito noi te la manderemo probabilmente lunedì o martedì non l'aprire perché c'è scritto il sesso quindi mi raccomando non l'aprire e aspetta quella che ti mandiamo noi perché ti manderemo i risultati del bambino se sta bene oppure no e il sesso sarà insomma cancellato domenica sera noi eravamo al cinema mi arriva la mail dico Dylan mi sono arrivata la mail e io e Dylan cominciamo a sorridere dico Dio chissà cos'è chissà cos'è volevamo saperlo ragazzi è impossibile cioè è impossibile aspettare lo volete sapere cioè siete troppo curiosi e diciamo ok no Dylan mi fa mi raccomando non l'aprire perché se l'apri ci rimango male lo dobbiamo scoprire insieme e dico no te lo giuro nel senso non ti negherei mai non negherei mai alla nostra coppia una gioia così grande non lo farei mai anche se ragazzi io ero tentatissima anche perché la mail ce l'avevo io però non l'ho fatto il giorno dopo parlavo con la mia amica italiana che vive qui e le faccio senti io sto morendo quelli del ginecologo non mi hanno ancora mandato la seconda mail se ti mando la mail e mi dici semplicemente se il bambino sta bene e non mi dire il sesso dimmi solo se il bimbo sta bene e le mando la mail e lei mi dice si si sta tranquilla il bambino sta benissimo è tutto negativo sta bene e mi fa e senti ma che ne pensi perché io ho detto io vorrei troppo fare questo gender reveal voglio sapere se è maschio o femmina non mi fa di aspettare chissà quando mi arriva la mail o la lettera dalla ginecologa e ci abbiamo la mail perché io ho detto ma il sesso c'è quindi nella mail e lei mi fa si si io l'ho letto e ho detto ok non mi dire niente non mi dire niente non mi fa nemmeno capire niente e e quindi mi fa senti ma scusami ma facciamo la torta oggi no? fallo oggi il gender reveal calcolate che era mattina quando io ho mandato la mail perché mi sono svegliata ovviamente la notte ero tutta oddio che bello voglio sapere e quindi praticamente io ho detto è vero perché io volevo fare siccome la mia famiglia non c'è e non mi sembrava proprio mi sembrava brutto fare una festa senza la mia famiglia solo la famiglia di Dylan quindi ho preferito fare una cosa solo io e Dylan una cosa privata e poi ovviamente farò la festa adesso che vado in Italia faremo la festa e tutto quanto e faccio vabbè ok ok facciamo la torta troviamo qualcuno che mi faccia la torta troviamo appunto cioè Alessandra stessa mi ha fatto la torta questa mia amica mi ha fatto la torta e mi fa sai tranquilla tranquilla te lo faccio io anche perché io avevo chiamato gli addetti insomma che qua le torte te le fanno al supermercato te lo fa Walmart te lo fa Kroger eccetera eccetera io avevo chiamato e mi dissero no guarda siamo piene di cose di ordini te la posso fare tra due settimane tra quanto? due settimane no non posso aspettare così tanto mi dispiace Alessandra che lei è molto brava a cucinare mi fa te la faccio io la torta ho detto io ho detto ok ok ti rito i soldi di tutto quello che spendi ok vabbè tranquilla tanto te la faccio io quindi Alessandra il giorno stesso mi ha fatto la torta mi ha fatto la torta e quindi mi fa io faccio io che faccio adesso e lei mi fa preparati quindi immaginatevi io ma come non so cosa mettermi non so un vestito non so cosa fare sono corsa da TJ Maxx il mio salvatore e ho trovato un vestito che poi è il vestito bianco che ho utilizzato per il video che poi vedrete e quindi vado mi faccio la doccia mi preparo molto carina ero tutta carinissima poi quel giorno faceva pure un caldo atroce qualcosa come 30 31 gradi e infatti se mi sentite sono un po' raffreddata perché adesso oggi ce n'erano 8 insomma qui c'è la temperatura che non è proprio il massimo qui in Virginia cambia sempre fa un po' come mi pare e quindi mi preparo dico a Dylan guarda che oggi facciamo il gendere io facciamo la torta facciamo il picnic e scopriamo se è maschio o femmina quindi ci prepariamo andiamo a prendere la torta e abbiamo fatto il gendere viola io e Dylan molto molto bello molto emozionante perché eravamo io e lui e abbiamo dentro c'era appunto il colore rosa il colore blu e abbiamo scoperto il sesso dei bimbo è stato è stata un'emozione grandissima io io lo sapevo io lo sapevo fatto sta che nel video continuo a dire lo sapevo lo sapevo perché me lo sentivo me lo sentivo cioè noi mamme ripeto quell'istinto noi ce lo sentiamo a parte mi dicevano tutti tutti quanti mi dicevano tutti la stessa cosa quindi vabbè e anche mia madre mi disse io lo so cosa stai aspettando da mo' che lo sapevo e quindi niente abbiamo abbiamo scoperto il sesso è stato molto molto bello e lo so che lo volete sapere allora io pensavo che il perché se voi cercate su internet e cercate NIPT questo test che ho fatto io dell'analisi del sangue ci sono persone che l'hanno fatto e il risultato era sbagliato quindi io ho una paura che adesso che andiamo a fare perché già dalle 12 settimane gli organi riproduttivi dovrebbero essere presenti non so se già si vedono nell'ecografia da quello che so dovrebbero cominciare a vedersi quindi ho detto non è che io vado a fare l'ecografia e mi scopro che mi hanno detto una cosa e mi trovo un'altra cosa e quindi ho detto ma lo dico sui social o non lo dico perché ovviamente tutte voi e tutte le persone che mi seguono stanno aspettando di sapere ma è maschio o femmina è una femmina o un maschetto e quindi io ho detto magari aspettiamo quello delle 12 settimane però mi hanno detto che è raro che sbagliano è raro perché comunque lo fanno tramite l'analisi del sangue e tramite appunto il cromosoma X o Y che gira intorno al vostro sangue quindi lo sapete se è maschio o femmina però ho detto boh magari aspetto quella delle 12 settimane per essere sicura per avere la conferma chi lo sa però comunque io penso che insomma sia vero penso sia giusto insomma ce l'avranno preso ce l'avranno preso e e quindi niente adesso sono 11 settimane qualche giorno appresso entrerò nel ufficialmente nel secondo trimestre diciamo che a parte ovviamente le nausee la mattina mamma mia la mattina la nausea la mattina ragazzi è un trauma quella è stata qualcosa che mi ha ucciso completamente non ho mai rigettato ma la nausea è mamma mia la mattina la mattina appena mi svegliavo io avevo sempre sul comodino acqua e crackers mangiavo il cracker e bevevo l'acqua mi bevevo tipo 4 5 6 sorzate d'acqua e un po' mi passava ma la nausea è stata tremenda e avevo adesso mi sono passata e va molto meglio la nausea è praticamente sparita avevo dei vuoti nello stomaco da un momento all'altro fatto sta che un giorno Dylan stava guidando eravamo in macchina stavamo riportando ferra dal papà dal fratello di mio marito e sua nipote e comincio ad avere questo dolore alla pancia che mi viene da rigettare cioè ti devi fermare perché mi viene da rigettare ma non dovevo rigettare avevo un dolore lancinante perché avevo fame avevo fame ho detto tu ti devi fermare perché io ho fame mi devi dare qualcosa da mangiare perché se no mi sento male ci siamo fermati e mi so che quella è stata la prima volta che ho mangiato il McDonald da non so quanto perché noi non le mangiamo ste cose McDonald evitiamo tipo i fast food magari andiamo al ristorante preferiamo anche se insomma un minimo più decente la qualità ma insomma siamo sempre negli Stati Uniti e dico dammi il McDonald dammi tutto dammi tutto fatto sta che ho mangiato stavo benissimo mi fa mangiare ragazzi perché ve lo giuro Dylan si è spaventato mi ha detto non ti ho mai visto così stavo così seduta sul sedile della macchina con gli occhi ribaltati e dicevo sto malissimo e sto malissimo e mi muovevo e sto malissimo e mi sento male e mi sento male c'è un vuoto mi fa male la pancia e dovevo mangiare ecco quella è stata l'unica volta che ho avuto diciamo questo attacco di fame perché poi la maggior parte delle volte cercavo sempre di portarmi degli snack se uscivo una mela qualcosa ecco sto cercando magari di sai se mi viene fame magari non mi mangio il cioccolatino mi mangio la mela sto cercando un attimo di stare attenta perché poi anche soprattutto in gravidanza è molto più semplice prendere i chili non che qui siano rompiscatole come in Italia infatti io sono molto contenta vi dico la verità che sto avendo una gravidanza negli Stati Uniti perché in Italia c'è proprio un body shaming proprio un verso la donna incinta che veramente ci sono dei ginecologhi io molto spesso leggo dei commenti delle donne italiane il ginecologo mi ha detto che sto cicciona c'ho paura mangia tutto ma no cioè a parte i consigli non richiesti che fanno gli italiani o zio o azia o cugina no ma quello non lo puoi fare ma quello non lo puoi mangiare ma quello non lo puoi dire no senti senti no guarda lasciami perde perché proprio lo so io cosa devo fare questo è un me lo sto crescendo io e lo so io cosa devo fare grazie per consiglio non ci faccio niente e leggo veramente dei commenti atroci soprattutto dei ginecologhi che no quello non lo puoi mangiare sei troppo grassa ti devi dimagrire cioè qua nel senso ti monitorano il peso te lo monitorano ma nessuno ti dice non t'azzardà prende quel chilo in più perché poi diventi cicciona e quel no a parte qua nessuno nessuno si permette a dirti quello fai quello non fare quello quello non lo mangiare quello cioè io ho messo un video che andavo in palestra che facevo un cardio molto tranquillo anche perché non è che sono un inconsciente cioè faccio continuo a fare quello che facevo prima anche perché l'attività fisica è la potete fare anzi si deve fare perché fa bene a voi fa bene al bambino e fa bene anche al parto ci sono donne che hanno sempre si sono allenate per tutti i nove mesi e hanno avuto un parto magnifico fantastico ed è spero speriamo ti prego Dio che avrò anch'io un parto fantastico e ho messo io che andavo che io comunque ho una vita che sono attiva perché io ho sempre fatto sono sempre stata una ballerina ho fatto sempre danza ho fatto sempre sport quindi comunque il mio corpo è abituato a muoversi e cioè io anche incinta magari ci stanno delle giornate in cui sono più stanca e ovviamente non sono andata in palestra non me le sono fatte tutte e tre quattro volte a settimana come me le facevo prima però sono sempre quando mi sentivo bene andavo e ho messo sto video che andavo a fare il mio solito balletto ripeto quindi cardio e non ballo come ballavo prima sto ovviamente più attenta non faccio i movimenti che facevo prima quelli proprio pesanti ma lo puoi fare ma te l'ha detto il ginecologo di farlo te so certo che mi ha detto il ginecologo ma che so che devo stare a letto per nove mesi la gravidanza non è una malattia ragazze se voi state bene avete una gravidanza state in salute voi il bambino assolutamente è consigliatissimo fare attività fisica cioè se riuscite a farlo perché poi ci sono tante donne che non stanno bene per tutti i nove mesi quindi ci sta che non riescono a farla ma se state bene vi sentite bene anche per esempio un po' di yoga un po' di stretching che vi fa bene per esempio io faccio tantissimo stretching mi preparo sai respirazione cose ci sono tantissimi video su youtube veramente se riuscite fateli perché aiutano tantissimo fatela cioè ma io poi mi sento proprio meglio a parte che dopo quando faccio attività fisica soprattutto adesso che sono incinta ho sempre sonno e sono sempre a dormire la notte dormo benissimo a parte che adesso comincio piano piano la notte un po' una volta una volta due mesi veglio che devo fare pipì ma vabbè quello peggiorerà sempre di più ma quello purtroppo lo sappiamo però insomma quindi immaginate cioè subito manco il tempo di mettere un video che facevo attività fisica già ci sono stati 40.000 commenti ma che sta a fare addirittura uno aspetta c'è uno che mi ha scritto in uno degli ultimi video mi ha scritto ammazza ma così grande già la pancia capite quando vi dico c'è sta proprio body shaming è sempre lo stesso discorso siamo sempre lì in Italia siamo sempre lo stesso discorso sta cosa di essere ingrassata essere dimagrita e i chili troppi non li puoi prendere in gravidanza e poi diventi ciccione e poi non li levi oh non mi dovete stressare soprattutto adesso che sono incinta sto vivendo il momento più bello della mia vita non mi dovete stressare non mi dovete dare consigli che nessuno va chiesto nessuno va teneteveli per voi proprio non ci faccio niente c'è un tiktok che mi fa sempre dire quando lo vedo che dice senti ti potrei dare un consiglio guarda no non mi servono ce ne sono già tanti proprio ne uso ecco così mi sento in questo momento proprio così però insomma sono davvero davvero contenta insomma io prego il signore tutte le sere che insomma il bimbo sia bene che tutto insomma vada per il meglio io ho avuto anche tanti commenti che mi hanno detto ah già l'hai detto cioè è stato un commento tremendo atroce che questa donna perché anche una donna è stata segnalata subito ma proprio eliminata bloccata segnalata che mi ha detto ma dopo la figuraccia che hai fatto perché secondo la sua logica l'aborto è una figuraccia mi vengono i brevi di solo a pensarci mi viene lo schifo veramente potrei dirvi tantissimi oggettivi in questo momento riguardanti questa persona dopo la figuraccia che hai fatto già lo dici sui social veramente come se ragazzi è una cosa schifosissima soprattutto detta da una donna perché l'aborto è una cosa di cui vergognarsi cioè capite capite poi uno dice ma sti social ma saranno la cosa giusta da fare ma in generale poi ti chiedi ma sinceramente ma metti a mondo un bambino con questa gente in questa società ma sarà la cosa giusta da fare perché poi cioè leggi sta roba vedi sta gente e dici ma come fate ma chi siete ma in che società di merda viviamo è la figura di la figuraccia che hai fatto come se l'aborto fosse una figuraccia ragazzi c'è e io una cosa vi dico non starò a perdere tempo a parlare di questa persona ignobile perché è veramente ignobile è stata segnalata bloccata subito e ripeto poi non stiamo a pensare a saggentaccia in un periodo così bello e una cosa vi dico io sono molto credente credo nel disegno di Dio e secondo me ovviamente ognuno è libero di fare ciò che vuole io mi sono sentita di dirlo nel momento in cui ci hanno detto che il bambino stava bene e non aveva nessuna malformazione abbiamo scoperto il sesso abbiamo deciso di dirlo sia io che Dylan ci siamo insomma ne abbiamo parlato eravamo entrambi d'accordo a dirlo sui social e io la penso così ognuno di noi Dio ha un disegno per ognuno di noi e io penso che non dipende ovviamente se credete alle macumbe a quello a quello che ti porta male che purtroppo alcune cose sono vere perché bisogna stare attenti tante persone sono gelose cattive e farebbero di tutto pur di vederti soffrire e stare male però io la penso così se credete come me e avete fede vi difende vi difende da tutto e vi difende anche da queste persone e secondo me se qualcosa deve andare bene va bene se qualcosa deve andare male va male non dipende se lo dici a 12 settimane o lo dici a 20 o lo dici a 30 purtroppo se le cose devono andare bene vanno bene se le cose devono andare male vanno male quindi io io e mio marito eravamo entrambi d'accordo a dirlo sui social è stata una nostra decisione e non voglio sentire non voglio leggere commenti ma già l'hai detto ma come l'hai detto ma dopo quello che ognuno è libero di fare ciò che vuole e ripeto io la penso così se qualcosa deve andare bene va bene se qualcosa deve andare male va male non dipende dalla settimana ci sono tantissime donne che purtroppo hanno perso i bambini alla 32esima alla 33esima non lo possiamo controllare non ovviamente noi preghiamo Dio il bambino sta bene per adesso va tutto bene io prego Dio tutte le sere che continuerà ad essere così ma ripeto purtroppo non dipende da noi non dipende da noi quindi ripeto non è una questione di dirlo domani o di dirlo tra due mesi se le cose devono andare vanno e niente questo vi ho fatto una testa tanta però insomma mi faceva piacere raccontarvi quando l'abbiamo scoperto come l'abbiamo scoperto se vedete delle differenze tra l'Italia e gli Stati Uniti fatemelo sapere nei commenti se vi fa piacere seguitemi sempre sugli altri social Instagram e TikTok mi chiamo sempre Iaia Rondi I-A-I-A-R-O-N-D-I tutto attaccato perché io mi chiamo Ilaria Rondinelli quindi sono sempre stata Iaia Rondi in tutta la mia vita dai social anche su netlog sui social che andavano MSN io ero sempre Iaia sono sempre stata Iaia spero che questo episodio vi sia piaciuto mi sono aperta un pochino con voi e vi ho raccontato un po' nei minimi dettagli e sicuramente insomma vi porterò in questo percorso in questa emozione che insomma vi porterò con me ecco durante tutto questo percorso e vi farò sapere anche ovviamente se questa sarà l'ultima volta che saranno postati solo gli audio e anche gli audio e vi farò sapere se la prossima volta sarà soltanto su YouTube voi continuate a seguirmi e lasciate i vostri commenti con le vostre domande e ci vediamo nel prossimo episodio di Keeping Up with Iaia Rondi ciao a tutti